Tumori al seno, perché si terrà a Foggia il 22 marzo un incontro organizzato dall'Associazione Andos diretta dalla Presidente Betta Valeri sulle guidanne e la prevenzione nelle screening sotto forma di dialogo aperto per diminuire le differenze ed aumentare la prevenzione delle malattie, in particolare dei tumori al seno. All'evento parteciperà la deputata Maria Elena Boschi, nonché anche la consigliera di Parità Provinciale di Matteo e l'ex primario di chirurgia senologica di casa sollivo della sofferenza a Murgo. L'evento si era presentato dalla Presidente dell'Associazione citata, che nata nel 1976 per oprire alle donne operate al seno, un'assistenza specifica più ampia e più attenta per aiutarle a superare i molti traumi legati a questa patologia. Nasce dalle esperienze dolorose di donne che pur portando ancora nel corpo e nel cuore i segni delle prove subite, hanno trovato in sé non solo la forza di superare il proprio trauma, ma anche l'emozione positiva e attiva di aiutare altre donne che sono state colpite dalla stessa malattia.